Ciao a tutti! Allora domani è Valentine's Day! Aspetta... Hi! Avevo fatto un buon giorno con i giorni fa l'agire. And tomorrow is Valentine's Day. E io ho un mio outfit picked up già. Gli miei socks. Che c'è schifo? Puedeva metter i canzini. Got a whole... Yama love for you. Y-yam? No, it's... Llama love. L-l-lama love. L-l-l-lama. No, it's l-lama. L-lama. Love for you. And then fila qua. Non so, è molto morbido. I know it's molto morbido. Anyway, questo metterai domani. L'abbiamo appena comprato. E qua dietro stiamo per preparare le cartoline di San Valentino che si passano in classe, vero? Yep. E da quanto tempo stai facendo che si passi in classe? Ever. Forse grade kindergarten? Sì. Da sempre. All right. I want to spell Val. Vale. Mo... Facciamo... Vedere. Ok. Ciao Titi. Domani è Valentine's Day. E adesso ti sei cambiata in pigiama con i cuoricini. Yeah. Io ho appena preso questo desk. Yeah. L'ho comprato da una mia collega. E io ho messo uno di ogni slime che io avevo qua dentro. Allora ti voglio farvi vedere quello. Poi dopo io farò questo Fun Dip Valentine coso. Le cartoline per San Valentino. Sì. Che si scambiano in classe. E ho pure la lista di bambini nella classe. Di bambini nella classe. E la mia penna da la dentista. Mhm. All right. Bye. Questo è mio primo slime. È verde. Io ho pure un valentine slime che l'ho fatto da Michael's. Mhm. Che era grazie. No a me non piaciuto quello no. Loro non vanno bene. Questo è uno dei loro slimes. Wow. È perché si rompe facilmente. Ramele rosso? Mhm. Scorreccia. Questo qua lo fai guess? Questo qua è il mio preferito perché se tu fai giù, like sente come, non so, però sente weird. Strano. E non sente un po' no. Perché quando tu vieni dentro, è like bricks. Si rompe. Non so, però si rompe. Pure. Si rompe. Già cosa con tutti. Oh! Here's Glitter Ball. Love filled it con tutta glitter. Ooh. I know, right? Questo qua non lo fa. E questo qua è me l'ultimo. E' quello da blu. mi piace il colore di questo qua iniziamo le cartoline facciamo le cartoline questi qua abbiamo comprato le cartoline che vengono 8 cartoline di San Valentino che ci è costato 5 dollari 77 centesimi una cartolina costava intorno ai 3-4 dollari allora ho detto vabbè prendiamo i più piccoli che costano di meno e vengono 8 allora farò questo qua prima il mio coso è Fandip Fandip I like Fandip wow this is like sorted bello organizzato per maschi e femmine what we'll do the red as femmine and then i altri maschi or I don't know 2 oh mamma mia cosa è difficile scrivere? the powder is right there oh sì devi stare in Argentina ok allora i nomi Dani che stai facendo adesso le femmine? i nomi in America come stavo dicendo sono diversi in tale tale molto molto diversi se potete vedere qua questi sono i vari nomi di chi è femmina? Zaire, Caroline, Rihanna e questo Danica farà e poi i bambini scambieranno le cartoline queste sono considerate cartoline di San Valentino anche se questi qua praticamente sono come una caramella cioè una stecca poi Danica vi farà vedere che c'è un polvere di zucchero dentro e questa stecca posso mangiare uno? no però puoi far vedere però senza mangiarlo perché è tardi quindi apriamo uno? sì, alla fine e questo farà Danica per tutti i bambini che sta venendo Danica? i noci? perché? perché alcune persone in mia classe sono allergiche allergiche? ok allora vedi? si deve pensare anche a quello non dice niente di quello e allora non c'è perché questo è zucchero no, non è niente quindi sta apposto non è niente? è Abigail which Abigail was out yesterday I mean today so ma non è niente non è niente no? No? Mancherà tutti. Vabbè, li prende il giorno dopo. Sono separati da femmine e maschi. Metti per chi ha da chi, certo? Per vedere uno, per esempio. Sì. Sì. Allora, io farò vedere come sembra da vento. So, I am a vento. Da Danica per Danica. Allora, si apre. Danica. Ok, cosa si fa? Ok, su una parte... It's called... The stick on you. No, stuck on you. Stuck on you. So, da una parte c'è il stick, che si può...è una caramella comunque. E il powder. Come funziona il powder? So, you gotta lick it. Mm-hmm. Così può stick qua sopra quando tu lo metti dentro. E la metti dentro e poi la mangi. Danica! Che schifo! Guarda quei colori sui denti. Yuck. E comunque così funziona. Si lecca, si mette dentro e si mancia. E si fa...e si ripete. E questo è fun dip. Danica basta. No, perché devi lavarti i denti. One more. It's not a time. One more. Uno e basta. Ok, quello è l'ultimo. Si butta, butta quella cosa. E quello è fun dip. And then you break off. Dove c'è scritto solo stuck on. Che schifo, c'hai tutto il blu colore. sull'identi. Yuck. Anyway. Adesso facciamo vedere cosa hai preso per l'insegnante. Adesso per l'insegnante. Vai a vedere cosa abbiamo comprato. Buy Walmart. Da Walmart. Oh, dove devi togliere il prezzo. Però facciamo vedere il prezzo così sanno quanto è costato il nostro pubblico. Praticamente il... Cosa? 4.98. 4.98. Molto carino. Togli il prezzo. Puoi mettere to e from. Già ci sta scritto to e from. Devi solo scriverlo sopra. To. L'insegnante. from Danny Guzzi. Danny Cat. Danny Cat. che sta facendo il intern nella scuola di Danica nella classe. Allora lei insegna al tempo part time nella classe perché deve farlo per finire l'università. E allora la regaliamo questa cosa di cioccolate. Tra il prezzo. 5 dollari. Yeah. 5 dollari questo. Non è male. Non è male perché lo stesso lo abbiamo visto a Walmart. Questo non l'abbiamo preso a Walmart. Questo l'abbiamo preso a Big Lads. Lo stesso da Walmart uguale 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 era 10 dollari. Che è un po' troppo per alcuni cioccolati. Sì a metà di quel prezzo. Sì a metà di quel prezzo. Sì a metà di quel prezzo. Ecco qua abbiamo il cosa ho scritto il mio nome qua sopra. Poi poi non si è. All right. E adesso al prossimo. Questa è un'altra cosa che ho preso per il mio insegnante. Talomo chocolate flavored apple. Is it actually an apple? Non penso. Però non penso però. E questo sarà 2 dollari che vedete. Però devi togliere il prezzo. Let me take it off quickly. And then on the back c'è scritto. 2. Miss Wilson. Fram Danacuzzi. Don't catch me yet. Oh dovrei far vedere cosa ho preso mia amica. Oh yeah. Cosa è questo? Questa è la cosa che ho preso mia amica per Valentine's Day. Per la tua migliore amica. Yeah. Vediamo cosa c'è scritto. Sì. 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 Quella è bella. Quella è bella. Sì. Sì. Molto carino. Sorelle ha in cure tipo sarebbe la tradizione però quello non è una buona tradizione in italiano. Corte. Corte. Sì. E... Insegnanti. Vuoi dare uno di questi? Le catture... Cosa hai scritto? Sì. Sì. E cosa significa quello? Come? Cosa significa in italiano? Cosa significa in italiano? Grazie per essere la nostra insegnante. Brava! E facci vedere come sembra da fuori e da dentro? Little Llama! Come i tuoi calzini! Ho fatto la mia cartolina! Uh, carino! Allora, noi andiamo e io voglio che tu faci una risposta alla mia domanda. Cosa voi facete per Valentine's Day? Comment down below, give a like, thumbs up, and go to the subscribe button. Se non già siete iscritti! E abbiamo guardato i nostri video che abbiamo da prima e dopo. Buon San Valentino a tutti quanti! Ciao ciao! E noi faremo pure un video domani per vedere cosa abbiamo preso da Valentine's Day! Ciao ciao! Ciao ciao!